Musica Questo festival che nasce dal Manigreti Film Festival è Giorgio Verdelli Io ripenso a quello che direbbe il mio amico Pino Daniele di questa iniziativa Io penso che questa musica vi serva per capire qualcosa in più di voi Perché io non lo sapevo da giovane ma dentro queste canzoni c'era una parte di me E io ho continuato a coltivarla Ecco questo è veramente l'augurio che faccio ai ragazzi ma in modo serio Nel senso che ci sono tante cose di noi che ignoriamo Forse la musica, la grande musica Ha questo compito di farci capire qualcosa in più di noi Di farci capire dove andiamo Poi dove andremo nessuno lo saprà Musica Sono insegnante di lettere e posso dire che è veramente stato un momento indimenticabile Quello che abbiamo vissuto noi d'ugenti ma anche i nostri alunni I ragazzi devono essere educati anche ad altre attività che non sono solo quelle scolastiche Ma che danno la possibilità di conoscere il mondo I sogni sono l'anima di un percorso di crescita Sognate, non staccate per sognare E quali a chi vi dice che state sognando qualcosa di irrealizzabile Fregatevi Perché se avete deciso nella vita di fare qualcosa non potete non sognare Sognate, non staccate per sognare